Il segreto per ottenere dall'esistenza la gioia più grande è vivere pericolosamente. Mi chiamo Gary Johnson e sono un falso killer. Tu non sei un killer, vero? Forse sono la tua fantasia. Ogni operazione sotto copertura è una performance. La cosa è seria. Ogni arresto una standing ovation. E' bravo il premio Oscar. L'hai inchiodato. Avevo tutto sotto controllo finché... Non ci credo che sto pagando un killer. È una brutta persona. La storia si è complicata. Ti faccio paura. No. Mi piace questa cosa. Noi. Sai la donna che voleva uccidere il marito e che abbiamo lasciato andare? Che lui ha lasciato andare. Perché? Che ha fatto? È un po' complicato, non credi? Non deve esserlo per forza. Per lei sei ancora il killer? Scegli... L'identità... Giusta per te. Siamo d'accordo sulle condizioni. Dove metto la firma? No. Eno. ho gli Id прямо a te. No. L'ically